Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un concorso che stiamo svolgendo qui al Formez per conto del Ministero della Giustizia. Stiamo cercando 8.171 persone che andranno a lavorare nell'ufficio del processo. Collaboreranno con i magistrati per smaltire l'arretrato che giace nei nostri tribunali. Chi cerchiamo? Laureati in giurisprudenza e anche per una piccola quota laureati in economia e laureati in scienze politiche. Due aspetti importanti. Tutti coloro che si sono laureati negli ultimi 7 anni vedranno il punteggio attribuito alla laurea raddoppiare ai fini della graduatoria. Inoltre i candidati potranno scegliere tra 26 diverse sedi nel territorio nazionale in cui lavorare. Il termine per la presentazione delle candidature si chiude il 23 settembre. In bocca al lupo e a presto.